Ragazzi ci siamo! Finalmente ho convinto, sono spettinato io però, guarda qua, ho convinto la sbanunata a giocare a Five Nights at Freddy's In realtà non mi hai convinto, mi hai trascinato con false promesse Vabbè, false promesse di cosa? Eh tranquilla gioco io, tu mi fai solo compagnia No, 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 Anna gioca a Five Nights at Freddy's Anna non c'è scritto Lion lo sbanunato, c'è scritto Anna la sbanunata Non c'è scritto la sbanunata però Però sì, comunque tu, quindi ragazzi, ciao a tutti, ciao a tutti Bellissimo avervi qui, ovviamente non ti farò giocare con tutti gli animatronici Grazie, perché già mi stavo spaventando Questa è la sfida che dobbiamo fare noi, io e i ragazzi, ok? Qua siamo noi che entriamo in gioco, infatti se hai questo piacere per riscaldarti così no Faccio prima la partita io Ok Ok? Mi devo spostare? No, 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 vai benissimo, se no esci, mi raccomando, rimani nell'inquadratura Purtroppo siamo un po' arrangiati così, ecco, confortami, sì, sì, così, mi piace Ma fa caldo No, c'è il condizionatore, non fa così caldo Allora, facciamo prima una partita dove proviamo E vediamo, magari Anna porta fortuna, che ne sapete, sbanunata O magari lo distrugga di più No, non mi distrugga Anna, è già abbastanza difficile Allora, ok, calmi eh, proviamoci, proviamoci, Anna ci porta fortuna, poi gioca Anna Ok, questo è il riscaldamento, tu impara e guarda, eh, guarda e impara e impara e guarda Ora muore Sicuro Allora, Z è la luce, ok Anna? Z è la luce Z è la luce Però, infatti, il gioco non è arduo al punto, no? Se ci riesco, ora che ci sei tu, guardi, do un premio Eh, c'era un mostro, eh C'era un mostro molto brutto Peppina, peppina Spegnere, vai raga che ci siamo partiti bene stavolta, eh Sono anche ricordato di spegnere Allora, ogni volta che io apro il monitor Devo ricordarmi poi di spegnere il riscaldamento Perché quando lo apro lo devo accendere Perché altrimenti mi entra gentaglia, capisci? Questo qua è un lurido Ti fa apparire un altro animatronico Eh, lo so, lo so Si chiama DD Come il DDT Oshiii Che cos'è? Non è una buona cosa Non ricordo cosa bisognava fare per fermarlo Quella era, era bruttissima Quella bocca che si Avete visto? Era un altro animatronico segreto Non so chi fosse Praticamente quello là Non lo voglio Allora, qua Non mi voglio rivedere Io sarò così tutto il tempo Va bene, però l'importante è che riesci a giocare Allora, il fatto è questo Quello che c'è Bisognava fare una cosa Per fermare le mandibole Che si chiudevano, no? Ok Però non mi ricordo cosa bisognava fare Mi pare che dovevi Può essere mettere la to C'era un tasto da premere Ma non me lo ricordo Comunque non ci interessa Perché non dovevo Magari ragazzi se lo ricordano Magari se voi ve lo ricordano Non lo sa Secondo me non lo sanno Perché segreta Riprovo io un'altra volta, eh Perché non mi sentito Una possibilità No, come si dice Onesta Secondo me Se potremmo dividerci i compiti Cioè? Cioè tipo tu mi ricordi Di accendere il riscaldamento Prima di alzare il monitor Ok E di spegnerlo appena lo metto giù il monitor Ma io quando so che tu lo vuoi alzare? Quando c'è il simbolo dell'aria Ok Il simbolo del pericolo Quello è che devo alzare E devi accendere l'aria Accendere il riscaldamento prima E poi spegnerlo Ok Lo dimenticherò Sicuro Vedi ora? Vedi? Ok accendi Porca cutrella Aspetta prima Ok Così Spengo E devo anche Vedi quante cose succedono Quando si apre Quando devo aprire il monitor Di tutto succede Stava entrando giù da lì Ah ma allora Di dissi un sozzo in cuffilo Chi era quello? Eh Trash and gang Un brutto ceppo Ok ho bloccato uno Ok Sai che? Oh c'è un tizio Dove? Nella vent Come hai fatto a vedere? Dove l'hai visto? Mi stai confondendo? Eh vedi c'è un altro Sì sì E springtrap Mamma mia Fai venire più paura Uh accendi Accendi Giusto Accendo Aspetto qualche istante Resetto ventilazione Spegni spegni Ok Grazie Me lo stavo scordando un botto Se si alza troppo il calore Arriva Gekko Chika Molto cattiva Gekko Chika Ok Rentra più dentro Nell'inquadratura Così? Sì mi conforti Piano però Ok Ok Stiamo andando bene Però non sappiamo Chi è l'animatronico Ancora C'è un tizio Dove? Che buona eh Mamma mia Accendi Ok Allora accendo Apro lì Do qualche istante Resetto ventilazione Spegni Ok Accendiamo Spegni spegni Giusto non avevo spento eh Meno male tu l'hai enunciato Bene bene Mi hai fatto sapere che c'era Trash and gang L'ho visto il fatto La questione Però non sappiamo Chi c'è stato aggiunto Mette su Cosa? Non c'è nessuno Ma che cos'è quello? Fai venire le paure Ok buoni Chi è? Bonio Ok vedi ora devo di nuovo aprire Accendi Accendo Ok Spengo Porca miseria Me ne stavo scordando eh Ma te l'ho detto Eh lo so Sono le tre del mattino Stiamo andando benissimo Però potrebbe arrivare Aaaaaaah Lo sapevi Lo stavo dicendo Stavo dicendo Potrebbe arrivare Gekko Chika Però non ho fatto in tempo A finire Chika Ma perché Che paura Ma che Allora Gekko Chika Perché si è alzata troppo Perché ho dimenticato Di spegnere il riscaldamento E ti dico spegni Spegni Senti è successo Quel che è successo Tutti insieme Leggi Dicono tutti insieme Appropinquati di più Così Sì Riproviamo ancora Vuoi giocare tu ora Eh Oh Un'altra volta Sì Però no E ho messo 6400 Chissà che cacchio Ci aveva attivato Aspetta Perdiamo Perdiamo No no Non vuoi far quello Perdiamo ho detto Perché Sì fidati Se perdiamo Nascondi la faccia Non guardate Perdiamo ora eh Perché E abbiamo uno in più Ok aspetta Ora perdiamo Ecco che perdiamo eh Perdiamo per Toy Bonnie Toy Bonnie non fa paura Bene Ok Dai Toy Bonnie è tranquilla Ok ok Ci sono quelli che fanno Un po' meno paura Secondo me i Toy Ok Tranne Toy Foxy E i Mongol Allora Partiamo da questo presupposto Allora ma chi Io non sapevo che esistesse Toy Foxy Perché sono rimasta Un po' indietro Ecco Erano questi due Che c'erano stati aggiunti Ok ora siamo a posto Dovevo mettere il cappellino Anti di di comunque Aspetta Porta fortuna Ora mi Ora mi distrae Vieni qui Vieni qui Ma più gente Ci può stare In questa telecamera Ok Va bene Non mi toccare trovo Cioè tocca No no Va bene Va bene Va bene Va bene Ok Non ti Non ti crucciare Va tutto bene Pure voi da casa Raga Tranquilli Va tutto bene We have this Ce l'abbiamo in sacoccia Dov'è Ok Vedi cosa dobbiamo fare Accendi Aspetta Ok Ok ora Resettiamo Ventilation Ok Muttiamo chiamata Ma chi è quello che chiama È uno scemo Dai Dobbiamo mettere il cappellino Anti di di Perché se c'è un oggetto Che tu Lui non ti arriva più È importante Poi devi essere La torcia Sì Sì Tranquilla È nuovo challenger Nuovo challenger Questo deve essere infido E infido Spendiamo il ventilation Vedi qua sono i gradi Accendi Sì Svegli Sì Grazie Ma si è alzato di un botto Eh sì Ok Everything is gonna be alright Na 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 Chi è? Bonio Via Ok Cicchera questa? No di nuovo Chi è? Cicchera Cicchera Accendi Muttè qua Abbiamo fa Questo è un danno Abbiamo fallito Il vecchio uomo Che ti fa Accendi Non posso No No devo Ma chi era? Flashtrap Un altro animatronico segreto Aggiunto da Didi Flashtrap lo conosco Sì ma non va bene così però Raga cosa fa Anna forse Allora dobbiamo Anna è utile Sono utile Effettivamente stiamo andando meglio Aiuta per darmi conforto Secondo me Effettivamente lo è Però devi giocare tu Quando giochi tu? Dopo Un'altra prova io Io mi nascondo Dietro di te La cupcake Va bene Spegniamo qua Ce la possiamo fare È tutto sotto controllo Il nostro controllo Va oltre questo gioco Ok? Siamo preparati Per confrontarlo Real good Vedi che rapiditudine Eh Eh Ok attenzione Sì sì ho acceso Ho acceso Ho acceso Spegni Spegni Ok vedi come ti attaccano tutti subito Ok andata bene Andata bene C'è uno C'è uno Sì sì tranquilla Dai tranquilla Dai Didi Perché non abbiamo messo il cappellino Perché tu fai tutto di corsa Ok Eh sei gentile Didi eh Chi è Ah Ok l'ho bloccato L'ho bloccato Era arrivata gentaglia eh Torcia Springtrap Sì sì Accendi Accendo Spegni Quello Porca cutretta Stica Dai tranquilla Pure tu Ok Va bene Ma non sappiamo Chi ci è stato aggiunto Ci farebbe piacere Saperlo no? No Sì Perché così Buona Non ti si vede bene Guarda bene Ok Accendo Non ho fatto In tempo Forca miseria Non so cosa sta succedendo Male 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 È spento sì Sì È partita la telefonata Eh qua è successo brutto eh Aia È successo brutto Ci attaccano ora No Sì Abbiamo fatto un rumore Arriva il mister piatto piatto Ah No lui non è il mister piatto piatto È un altro Molto in freddi Senti Devi provare tu Va bene Però Reggi la cupcake Ma vuoi provare così No Con questa difficoltà No Con un animatronico A uno Anche un animatronico A uno Uno a uno Che schifo Eh Quanto punteggio Dobbiamo far fare ad Anna Allora Secondo me Poco per favore Non sono mai giocato Allora ok ok Tranquilla Tranquilla Non troppo facile Ma neanche troppo difficile Ti mettiamo Qualcuno che tu puoi affrontare Abbastanza facilmente Ok ti tolgo questi due Con la maschera Che sono cattivi Ok Questi due te li lascio Eh vabbè Anche Withered Bonnie Ma 20 Ma non fa nulla Fidati Ti tolgo Withered Chica Ti lascio No Old Man Questi te li tolgo Perché sono molto Molto fastidiosi Ennard Te lo lascio Thresh and Gang Te lo lascio Elpy te lo tolgo Questi qua sono infidi E molto infidi In particolare Mister Ippopippo E infatti te li tolgo Perché sarebbe molto difficile Riuscire Ti lascio Foxy Lui Lui non ti dà fastidio Chip te lo tolgo Questa te la lascio Questa te lo tolgo Perché infido anche lui Vediamo lui Lui Afton te lo lascio Afton è cattivo Stacci attenta Perché Eh sì Allora Così sei un punteggio Di 2200 Un signor punteggio Devo dire Secondo me ce la puoi fare Ma tu ce l'hai fatta Da potre live Ora io Vieni più vicina Ora io e ragazzi Ti spieghiamo Come devi affrontare Questo gruppo Ok Allora Bonnie non ti interessa Tu non devi mai aprire il monitor A meno che non c'è quel fatto là Cioè L'allarme dell'aria Ok Se c'è premi S Apri il monitor E premi reset ventilation Ok Bonnie non ti interessa Non ti attaccherà mai Loro due Dopo che apri e chiudi il monitor Li vedrai nel condotto In basso a destra Devi premere F S per il monitor F per chiudere Da dove arrivano quei due Ok Poi Springtrap L'hai visto Si vede davanti W Ok Nightmare Freddy Ogni tanto appare un pupazzetto Di Nightmare Freddy Sì quello piccolo Lo devi Brava Illuminare con la torcia Z Z Z Z Poi Vai più vicina Troppo lettere Troppo lettere No tranquilla Poi Ennard ride Quando tu senti ridere Un clang clang W Stesso di Springtrap Ok Ok Trash and gang a volte ti fa spaventare Cioè fa brrrr E basta Music man basta che non fai rumore Quindi tu non farai rumore Quindi non ti interessa Funtime chica ogni tanto fa quella cosa delle foto Ah sì quella lì Hafton ti attacca una volta Quando ti attacca Si sflesciano le luci E si sente clang 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 Devi premere F ma subito F F Chiude lo stesso di loro due Ok Ok Tutto chiaro? No Allora tieni No Non ce la posso fare Ti prego Premi go quando sei pronta Mettiti Ho bisogno delle cuffie Sì 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 assolutamente Assolutamente Ma aiuto Mettile bene Piano 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 Devi appoggiare Ma io ho gli occhiali Cioè non è funzionale No basta che sono appoggiate Si sente? Sento una varanga di rumori brutti Non sulle orecchie devi appoggiarle No 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 Ok Vai Non ce la posso fare Vai Ok Ok Premi go Ah ricorda Io ti dico un po' i tasti eh Ti do degli aiutini F è la torcia Z è la torcia F chiude lì in basso a destra Ok W chiude davanti S e il monitor Spegni il ventilatore Spazio Brava Io non ti posso aiutare con i tasti E posso solo darti aiuti vocali Come va? Dai Non sento nulla Tranquilla Ho troppo paura Veramente Non succederanno troppe cose Ricorda ogni tanto accendi Spazio Se sale troppo lì in basso a destra Vedi? Cerca di tenerti sui 60 Ecco ora devi Premi S Reset ventilation S di nuovo S Chiudi in basso a destra Chiudi F F Brava Riapri Z Z Non devi cliccarlo Z Tieni premuto Ok ora Riapri in basso a destra Che ti sei chiusa Brava Ho chiuso la porta Apri la Ok W W W Non l'avevi sentito tu eh No Ripremi Ora premi spazio Brava Ce la voglio Dai sei all'una di mattina Non hai fatto ancora nulla Ma stai andando bene Ok Brava brava Ok riapri l'ora S S Reset ventilation S di nuovo Z Z Z Brava Guarda in basso a destra Premi F F Non cliccare Non sto cliccando E non mettere il mouse sulle cose Ok Premi un po' di spazio Brava Ok Non ce la farai Soldato Non avere timore Ho sentito un rumore W Senti il toc Hai sentito il toc Era un cigolio No Quel toc vuol dire che l'hai respinto S S No quello L'ho sbagliato S Reset S Guarda lì Premi F Ripremi Ok Spazio Brava Ci sono troppi tasti Lo so E' un cavolo di casino Scusate Ok Rispazio Spazio Ma hai detto che non mi aiutavi No Non ti posso premere i tasti Però posso dare aiuti vocali Ok Ok Ho sentito il cigolio Ripremi L'hai sentito il toc dopo S Quello vuol dire che è arrivato S S S Z Z F F Spazio Riefe F però Apri Ok Ripremi spazio Sei a 80 gradi Lo vedi? Sono le 3 del mattino Vai bene Ho sentito una voce Trash and gang Non fa nulla Premi spazio però Se 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 Forca miseria W W W W Ho provuto Ripremi Non toccare il papagallo Non toccare il papagallo Premi spazio Hai tutte le porte aperte Controlla Sì Brava Mamma mia però Che ansia sbanunata che sei Smettila Dicono forza Anna Brava Grazie Eh Cosa hai fatto? Ho spento il ventilatore Brava brava 4 del mattino Ce la stai facendo eh Hai molto power Quindi S Ok Legio Vai ripremi Premi spazio Oh è quasi più faticoso eh Mamma mia Ho sentito W Ma tu come fai a saperlo? Perché è sempre da lì che vengono No dico come fai a sapere che Si sente leggermente Ah Ormai ho sviluppato un orecchio felino FFF Te l'avevo detto Te l'avevo detto Perché ti sei dimenticata di Afton? Perché io se l'ho ricorda tutta sta gente Allora ma È stato infido Afton con te eh Perché è arrivato all'ultimo Di solito arriva molto prima Però l'hai visto Dovevi premere F Ma non ho sentito niente prima E quello era Quello sflesciare di luce E al contempo Perché mi confonde con l'altra No 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 Allora Te lo tolgo Afton Si è difficile Però ti metto un altro al posto di Afton eh Chi vuoi al posto di Afton? Ti metto Jack o Chica Se fai salire la temperatura ti attacca Vai Vai Eri a posto Puoi anche usare un po' di più di ventilatore Vai Spegnilo ora però Ok Non ce la faccio You are good to go Io ho paura a parlare Perché poi non sento i rumori Eh lo so Che hai fatto? Ho acceso il ventilatore Brava 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 Insegnaglielo Ricorda per aprire il monitor Premi S Non andare giù col mouse Non arriva nessuno Non mi portare sfiga S F F Se quando Afton Meno male non ce l'hai più Guarda Dopodiché tiri giù il monitor Devi sempre premere F Ok Oh Sempre Si Oh oh Bene Ciao Eh si Ti ha portato qualcuno Chissà chi sarà l'ospite di Anna la sbanunata Ho sentito l'umore W Brava Chissà chi è Ora cerchiamo di capirlo Tu stai pronta S F Brava brava Ripremi F però LOL Ti ho aiutato solo in questa cosa Era LOL Bit Era il tuo segreto È andato via Non ti preoccupare W Spazio Spazio Guarda lì Ok Era LOL Bit Ok Per mandarlo via Bisognava scrivere LOL Ok Sì vabbè ma qualche altra cosa difficile in questo gioco Lascia perde Io devo fare 6300 punti Ancora Ma dai Ma sto tanto bene da sola Meno male che sta arrivando un sacco a te Così magari a me dopo non arriva F Brava Z lì Good job W W Mi sembra di sentire Non sono sicuro ma Hai riaperto F Sì Spazio Chissà chi ti ha messo ora però Brava Mo ti ha messo Afton Se ti ha messo Afton mi piscio addosso dal ridere Che cattivo Eh ho capito Sembra che Stai andando bene eh Tipo adesso c'è qualcuno che bisogna guardare S Eh può essere F brava Spazio Un'occhiata in monitor puoi darla eh No No Vuoi andare sulla fiducia che non sia uno che devi controllare Sei convinta Ho premuto cose Dov'è vuoi Controlla le porte Ok Buon lavoro sbanunata Ah Lion ho paura No è Anna che ha paura questa volta Non abbiatene tutti insieme Brava Ripremi però Ripremi Brava Spazio E A Vabbè Ok Illumina Spazio l'hai premuto no Ok Very good job sbanunata Complimenti Ora continua così soldatessa Brava Ma possiamo usare la mia forma preferita Sbanunarla Facciamo prima No Vai avanti E prega che non arriva quello che ti è stato tirato dentro da Didi eh Potrebbe arrivare in qualsiasi momento Potrebbe essere terribile Non sai chi è Non so chi è Non sai chi è Chi è Chi è Potrebbe essere brutto 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 freddi E chi è brutto brutto freddi F Z Brava brava Spegni il ventilatore Ottimo Sono quasi le 5 eh Devi arrivare fino alle 6 Le 6 Le 6 Sono così lontane le 6 No Dobbiamo Brava Riapri Hai premuto anche la porta Brava brava Sono fiero di te Soldatessa Grazie E attenta però eh Spegni Brava Era thrashing F Z Ok non ti preoccupava Tutto bene Ti sei caccata addosso un pochetto Li Hai riaperto che Certo Brava 5 di mattina eh Mancano Trentina di secondi Puoi tenere il ventilatore acceso Premi W Mi era sembrato E chi lo sa E chi lo sa Sembra che non stia arrivando il tuo nuovo challenger Probabilmente si salva Se continua a ripeterlo arriva Non arriva Tieni premuto spazio Lascia spazio Lascialo t'ho detto S Riapri ok Brava brava Ti prego Eeeh Ce l'hai fatta Eeeh Eh non male 2300 sbanuvati punti Brava Ok Ora devo rifare No che ciao Via qua Puoi Puoi lasciare le cuffie però Ora devo rimpegnarmi nella mia missione Eeeh Se Anna Sbanunanna è riuscita a fare Vieni qui qua 2200 punti Ce l'ho fatta Io non posso non fare I miei 6300 Ok Aiutami a rimettere tutti quelli che devo rimettere Golden Freddy non c'era Loro due si Ti hai rifatto Una foto E' vero No no tranquilla me li ricordo Perfetto Abbiamo lui Old man Rompiscadule Poi abbiamo Trash and gang Elpi E tutta la Allegra combricola La rana non è respinta dal calore E io loro non li controllo Spero solo che il calore le mandi indietro abbastanza E ciò non sempre succede ma Forse Questa sarà la volta buona Ok Eccoci qua Ragazzi GG per Anna Sbanunata Lei è molto contenta Vero? Sì Ok ora però Mi devi continuare a confortare Tutti voi mi dovete Mi tengo stretto Tutti voi mi dovete tenere tutti addosso Ok Tipo Palline La vasca delle palline No? Che bello Esatto Però mi stai stringendo troppo Scusa Ok Che ora la questione è più difficile È ardua Devo ricordare di spegnere C'è il Il coso Sì 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 Ti ricordo io Grazie Non ero Non mi sentivo A mio agio Accendi Spegni Ok Good 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 Cioè adesso che sto i tasti Mi viene da dirgli tutti Eh ma tu non sai Alcune delle cose Che succedono qui Ah Mamma mia Un amichetto Avevo spesso sì Non scendeva più Oh comunque Sale tantissimo La temperatura Raga eh Sei uno schifo Ok Dov'è? Muta Perfetto Noi abbiamo anche Accendi Porca miseria Giacocica Spegni C'è Freddy Di schifo Ma che Freddy Schifo Hai spento? Sì ma Non avevo acceso il ventilatore Sale tantissimo Network Chica Ok Dai Forza Il tempo passa così lento E chissà Chi mi è stato aggiunto poi Vai via Bonio Via Grazie Ok Però dove la stiamo cavando bene? Accendo Spegni Cos'è stato? Chi è quella? Non lo so Helpi Helpi Allora Il riscaldamento Mi ero dimenticato Anna Ma come? Sì? L'ho scordato Un botto È ora Questa quando si muove Bisogna premere qui Ma solo quando si muove Ok Registra la posizione In cui è ora Ok Quando si muove Premere Vai via Cicchia Cicchiella Accendi Accendo Spegni Grazie Ok Riaccendiamo il ventilatore Siamo alle 3 del mattino No male No male Lei è ancora ferma? Sì Ok Ok Springtrap Si dice springtrap Anna Sbanu Anna Buona Quando si muove Tutti guardare Lei Scrap baby Muta Accendi Accendo Quando mai? Era Ennard Quando mai? Ma Non è vero Non l'avevo Quello fa La risata Quando entra Chi l'aveva sentito? Voi l'avete sentito? Io non l'avevo sentito Buona Elbanu Anna Ora mettiamo il DD Repel Vai Questa è la nostra volta Con calma Risparmiamo power All'inizio Ok Ce la possiamo fare E' nelle nostre mani Via Bonio Via Good job Good job Noi siamo quelli I predestinati A vincere 6300 punti E scovare La storia di Chica Tu non vuoi sapere Con chi è fidanzata Chica Chi è la sua ultima Preda Accendi Paura tra 321 321 321 Eccolo va Grazie Trashengang Ok Mi inquieta solo che prima non ho sentito Ennard Ah no non mi pizzicare Scusa Capito che l'attenzione però Sì 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 Accendi Ok Ok Ho spento No no ho spento Ok ho spento ora Accendiamo un po' di ventilations Ok Ok A volte è difficile ricordare tutte le cose che hai acceso o premuto Poi se ci sale troppo la temperatura arriva lei Giacocica E lì Sono cavoli amari Fritti Ok Stiamo facendo scendere la temperatura È importante per noi tenerla sempre più bassa possibile Perché poi succedono i misfatti Accendi Ok ho acceso Spegni Spegni Ho spento Porca cutretto la 90 gradi è arrivata lei Come è brutta Eh Giacocica è brutta Giacocica è brutta È brutta 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 Sì Ok ok Calmi calmi No 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 Ma l'altra volta io ce la stavo per fare Non so se tu hai visto Chi c'era stato aggiunto? Eh Ah no nessuno perché avevamo tolto di Dio Ok Togliamola di nuovo Finché ce l'abbiamo Ne abbiamo altri quattro Però Sta Giacocica raga Sta Giacocica Vogliamo provare a toglierla e a mettere Withered Lei si arrampica dal coso frontale Magari fa rumore Non lo sappiamo Potrebbe essere Che dite voi? Ti lascio un po' di spazio No no A propinquati anzi Che mi fa sentire tranquillo Ho fatto un ruttino Non fare così Si fa Ok Va tutto bene Maledetto il chip Ti ho messo a 10 Che cosa rompi le scatole così? Ok Chica sbanunata Ok Bene 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 In tutto ciò Afton non si è manco fatto vedere prima Eh Mo' arriva Te lo dico io Stavolta è la volta di Afton Afton è infido Anna Lo sai Eccolo Oh l'ho chiamato Hai visto? Eh Accendiamo Accendi Segni Oh oh Tutti sono arrivati Scrap baby Siamo così Si Ok calmi eh Calmi Guardala se si muove Si Se si muove Premere il tasto Va bene Abbiamo resisti Poi attaccano Vedi come attaccano loro Fanno queste ondate Dove ti assaltano di massa È quella la difficoltà Però Afton Ce lo siamo tolto dalle scatole Accendi Accendo Segni Ok Oddio Non è stata una buona idea Eh E adesso Chiudi Eh Non posso Sei incastrata Eeeh Maschera Non so se se ne va Non credo Proviamo Non credo che se ne va però eh Io mi chiudo tutte e due le porte Per mandare via Gekko Chica Nel caso Ma non credo che sia lei Il nostro problema Gekko Chica per favore Non Non posso chiudere C'è Ennard ma E la Eeeh Vabbè Vabbè Però Allora Gekko Chica Gekko Chica Non fa Tenerla Non è Gekko Non è È Withered Withered Chica Withered Chica Secondo me Allora possiamo provare a giocare insieme Tipo che uno si occupa di una cosa e uno dell'altra Eh È furba come tecnica Allora No Perché poi a te verrebbe di premere qualche pulsante No 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 Tu ti occupi Del riscaldamento Ok E del ventilatore Ok Tutto quello che ti interessa Ventilatore Spazio E riscaldamento Tre 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 e spazio Insinuati Ok Ci arrivi È difficile Beh Vuoi fare solo spazio Ci sono No allora Tu fai solo spazio Ok 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 Non so se funziona sta cosa Tu solo spazio Spegno all'inizio Basta che non rimane acceso a 60 Ok Io non penserò più allo spazio Potrebbe funzionare come tecnica o confonderci di più Non lo sappiamo Ma non farlo salire troppo Guarda io se no Se non mi sembri affidabile Mi devo mettere a guardarlo Good job Anna Ok Non lo devi far salire oltre 70 Ok Accendi Eh Ho blocca Ho dovuto bloccare Afton Ok Attenzione Non ho acceso Ok Mi sa che No ti prego C'è i DD Ok Allora c'è i DD purtroppo Però non è male come situazione Ho solo sbagliato qualcosina Però è andato tutto bene Devo ricordare Ok Devo ricordare il riscaldamento Ma quando tu accendi il riscaldamento Io spengo il ventilatore No 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 Si spegne da solo quando io lo accendo Ok Non ho No mistery Non ne ha funzionato Perché Ora lui parla per 3 minuti Lo sai Cosa Parla per 3 minuti Porca miseria Perché io mi sono dimenticato Di accendere il riscaldamento Perché col fatto che ti avevo detto a te prima Eh tu ti occupi del riscaldamento Me ne sono dimenticato Capisci Io ce la dicevo pure Adesso ci giochi tu Con quei tutti quelli No sei pazzo No no ci proviamo No 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 Allora dobbiamo trovare il modo Di suddividerci le cose Ma in modo intelligente però E se tu C'è qualche tasto di qua Aspetta E se tipo tu ti metti dall'altra parte Così arrivi meglio al 3 Potrei Potresti fare questa cosa Quindi io mi metto più di qua Guarda si si potrebbe funzionare Potrebbe funzionare Allora vedi io mi metto così Perché non ci siamo messi così da subito È molto più pratico Ok Ok vieni più vicina però Sennò vai fuori fuoco Brava È un problema Dai devi starci dentro Ci stai Ok tanto a lui Ha ancora un po' da parlare Purtroppo Sto qua è la cosa più brutta del gioco Sto schifo Lui per 3 minuti Ti racconta la storia della sua vita E qual è la storia della sua vita? Una volta ha comprato un gelato A Orville l'elefante Non lo so Ok Orville gli elefanti Gli ha la vomita Rigurgia Che schifo Questo quello ho capito io Poi non lo so eh Ah Ok Io l'ho detto Mister Ippo è la mia nuova nemesi La cosa che odio No raga Cioè tipo voglio i meme Tipo Lion Da quelli che dice tipo Eh mamma non so cosa c'è di peggio Di Mister Ippo Eh beh Sì Mister Ippo che vomita il gelato Allora stai attenta È il tuo momento Cosa devi premere tu? Spazio Ventilatore 3 riscaldamenti Quando devi premere il riscaldamento? Quando Appare il simbolo Sì lo so Quando appare il simbolo? Quando lo devi spegnere? Quando chiudo il monitor? Lo so Ok Brava Io sto cercando di entrare Nell'inquadratura È un po' difficile Avvicinati C'è la zampa della sedia Eh purtroppo siamo stretti Però un po' più vicino Eh Sono andato fuori fuoco Tantissimo Oh no Metti a fuoco Ok È perché deve mettere a fuoco me Capisci? Si confonde Non sa chi dei due È lui Non io Io posso essere fuori fuoco Ok ci siamo eh Sì ma Tutte queste panoramiche È molto Sta finendo Quando fa così sta finendo Eh E dice E quindi è questa Tutta la mia vita Questa è la storia Della vomitata di Orville l'elefante Buona Allora cerca di non intralciarmi Io cerco di non premere i tuoi tasti Più lato possibile ok E il tre va bene lì Questo è Secondo me conta come citare comunque Sì Cioè se in due Però uno di voi mi ha suggerito di usare i piedi Con un'altra tastiera per premere dei tasti Cioè Vabbè Anche quello non è proprio il comportamento più Allora eh Pippo Per favore eh Levarsi dalle scatole Marsh Prima o poi arriverà La fine dei pipopotami Poverini Gli si devono stinguere Ma no Poveri Dai Ippopippo Forza Mangiano le persone Se ti sentono Ti arrivano la cosa Certo Come si Eh guarda che sono feroci Ippopotami Sono territoriali Te ne fai Pippo Ippo Adesso esce dallo schermo e ti mangia la faccia Via Ok abbiamo capito la tua storia Per l'ennesima volta Ora puoi non raccontare Oh stacciattenta eh Perché poi c'è una congiunzione astrale Per cui se uno di loro ti attacca è lui Ok Quindi Va bene E lui ogni volta fa sta cosa E tu non puoi manco chiudere il gioco Ci siamo Sì Allora diamoci un dd repel Pronta Pronta Quando vedi il simbolino Lo so Vai Vado Concentrazione eh Concentrazione Ok Senza Martellare i tasti che mi fai paura Buona Ah no davvero Poi finiamo i dd repel e sono cavoli Cosa hai fatto Ho acceso il ventilato Ok va bene non ti farò più domande Ok Va bene va bene va bene Ok è il tuo momento Anna L'ho premuto Ok L'ho premuto Io l'ho Vieni qui No 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 Posala posala Cosa cacchio è successo Sono fuori fuoco Sono fuori fuoco Aia Cosa è successo Ti stermino Io ho premuto Dai ma di nuovo Mr. Pippo Ma io ho premuto Dai Sei tu che non hai tirato su abbastanza in fretta Sei sicura che hai premuto Assolutamente Avete visto che la temperatura è schizzata in alto Allora qualche volta può succedere Il fatto Che lui ti attacca lo stesso È un'eventualità Cioè ma io non ci credo Siamo stati così sfortunati Che c'ha Di nuovo lui Dobbiamo risentire tutta la sua manfrina Cioè Guarda Io ti saluto No Me ne vado No devi rimanere Questa è la strategia vincente Secondo me no sai No Perché praticamente Non lo so Tu sai di preciso qual è il momento giusto Io no Oppure ci confondiamo Esatto Tu quando l'hai premuto Appena ho visto il segnale Era giusto Hai fatto giusto Non lo so Anna sbanunata Non lo so Sbanunata non lo so Secondo me siamo andati bene Però Però non buono Non buono Tieni premuto Esk Non è che mi quitta il gioco No non lo faccio Perché se poi mi quitta il gioco Dobbiamo risentirlo da capo Sta finito Lui appena quello là In overlay Se ne va da quella parte Si schifia via Intanto parliamo noi no Parliamo sopra di lui È vero Allora intanto rinvertiamoci Io mi metto bene come mi sento io Ok tu Adattati che questa volta successiva Mi sento che può essere la nostra Ok Riusciamo a rendere un po' qui meglio In modo che ti si vede un po' no Assolutamente Assolutamente Allora scusami No ti faccio da supporto morale Mi fai da voce fuori campo Ma ti vogliono vedere Aspetta 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 ferma Non mi toccare Aspetta questa non è quella giusta Questa è quella giusta Ok Ok Mi appollaio è sul crescolo Va bene Va bene Anna rimane appolla Arrivata qua dietro Tanto mister hippo Se ne sta andando Dovrebbe Levarsi dalle squinfere A breve E noi siamo pronti Per fare questo prossimo tentativo Io raga Continuo a essere veramente Fiducioso in me stesso E in voi Però Allo stesso tempo La difficoltà è alta E c'è una buona dosi di fortuna Anche perché col fatto del riscaldamento Vedete Ha funzionato tante volte Ma adesso non ha funzionato E Anna ha premuto Vero? Sì sì No no Hai premuto anche perché si sente il rumore Quando premi il riscaldamento Fa tipo E c'era C'era E c'era Togli hippo Non posso Non posso Fa parte della strategia Se tolgo hippo Ebbah Vanquicuero Con le tue storie Comunque se tolgo hippo Mi trovo scoperto Di un animatronico Che mi serve avere Io ho fatto il cambio di mascotte Ma che acqua mi hai dato? L'acqua frizzante Che piace tanto a te C'è un sapore brutto Sei tu che sei brutto No non è vero Sei tanto carino Comunque ho cambiato mascot Questa è la nuova mascotte Visto che ti piace tanto Chica Ok Va bene Ok Per confermare che ci sono Ogni tanto farò così Va bene Ma non mi distrarre No Questa volta non metto un di di repel Metto una batteria Porca miseria Ce la devo fare Mo mi concentro come un caimano Non parlo Ok Come un caimano Avete mai visto un caimano concentrato? Probabilmente non ho mai Buona Scusi Ok Vedi 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 Tanto motra un po' Arrivano tutti Accendi Accendo Aspetto anche qualche istante Spegni Grazie Ok Ok Abbiamo resistito a diversi Hanno attaccato in tanti ora Ok Bene Dov'è? Bugno Accendi Stendi Porca miseria Perché mi si è aperto quello? Cos'era successo? Chi ha premuto? Porca miseria Guarda i gradi Devo anche accendere il ventilatore dopo Perché a 90 gradi Arriva Withered Chica Già eh Porca miseria Ma che cacchio? Chi è che stava premendo? Io non ho premuto niente Ok Manteniamo la calma Accendi Quello è l'elefante su cui ha pomidato il gelato Si però Credo di aver capito che Se alzi il monitor troppo in fretta Dopo aver acceso il coso Ti attacca lo stesso Capito? Batteria voglio Solo la batteria Perché i cappellini li stiamo anche finendo Quindi devi tipo Accendere il riscaldamento Aspetti qualche secondo E poi Tiri sul monitor Perché il riscaldamento Li respinge Però gli devi dare il tempo Di respingerli E può essere un secondo Quanto due Tre Cinque Ho avuto un déjà vu Perché questa stessa cosa L'ho fatta 40 volte Ok Non ci resta che sperare Che non succeda troppo spesso Che manca l'aria E che dobbiamo resettare il ventilamento Perché è lì che ci fregano Ecco Benissimo Aspettiamo qualche istante Ok È una sequenza difficile Non tanto da ricordare Ma proprio Maledetta Didi Maledetta Didi Maledetta Didi No Per favore No Dai Mo' ha messo chissà chi Afton Bloccato Vamos a bailar Testa di Afton Accendo Aspetto qualche secondo Spegni Ok vedi Ok Troppo ventilatore comunque Tanto ventilatore serve Tanto ventilatore serve Veramente tanto Bogno Ok Good job Stiamo facendo un buon lavoro Porca miseria Attenta C'è un botto di gente Ok Tutto a posto Questa era stata pesante Eh Erano in botto Non mai toccare quello là Può essere 90% cattivo Ok Ok Bene 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 Accendo Spegni per carità Ah miseria Ma perché c'erano altri C'erano i due nightmare alle porte Ah Porca putretola Sì ma Allora Senza di lei Sarebbe più facile Senza sta maledetta Allora facciamo una cosa Proviamo una cosa Proviamo una cosa È pericoloso Ma mettiamo lei a 10 E il chip a 20 Magari viene di meno Non so eh Non ho manco messo il power up Ma arriverà 45 DD Ok Eh vabbè Eh vabbè Quelle da sopra Voglio arrivare Ok buoni 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 Va bene Ben Afton Ok tolto di mezzo Già da subito Accendi Ok Ho rispinto anche Tutta la marmaglia Ho sentito il rumore Ma Boh Qualcuno c'era C'era una volta E ora non ci sarà più Accendi Accendo Accendo anche qui Mamma mia Via Ok Hanno la tua assistenza È preziosa Ok Non so come ce la stiamo cavando di energia eh Però O io lo voglio vedere sto filmato raga Non me ne frega nulla Aspetta Porca miseria Porca miseria Porca miseria Eh Qua la vedo male eh Ok Brutta 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 è stata qui eh C'è Trash and Gang Ok Dai bravo Ok Ok Io ringrazio solo chi Chi crede ancora Che io ce la posso fare Spento 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 Spengiuto Spengiuto 80 gradi Siamo caldi ma Non dovrebbe arrivare 3 del mattino Forse quasi 4 anche eh Non sventolare Anna mi sta stressando un voto Ok Bonni Accendo Vieni 28% di energia Non tanta Mmm Forse devo accendere il generatore Ma rischio Rischio perché fa rumore Semmai lo accendiamo dopo Siamo alle 4 Accendo anche il Ventilations Vattene Bonni Quanta gente però 5 del mattino sono Devo accendere per forza il generatore Ok Male la vedo raga Siamo alle 5 Passate Non ce la facciamo Secondo Si sta arrabbiando Si sta arrabbiando Abbiamo finito l'energia Mancavano Da ora 10-9 secondi 8 7 6 5 4 Parca con 30 Ma ti pare Raga Dai ma puoi perdere Perché ti mancano 3 secondi 2 volte Cioè A me sembra paradossale Riproviamo Ma perché non ti metti la batteria Eh Perché Se ce l'avevo Vincendo Dai dai Non bisogna sconfortarsi Tu e io Continuare ad aiutarmi E anche voi ragazzi Non perdete l'energia Ok Tipo l'energia sferica di Goku Capite Comunque ci ha attaccato Lefty Perché abbiamo fatto rumore Col generatore Quindi Secondo me non lo dobbiamo Proprio toccare Ce lo dobbiamo dimenticare D'averlo Perché Poteva anche essere Sì un attimo Porca miseria Eh ho fatto un pasticcio Non dovrebbe arrivare Giacocica così in fretta Eh però Ok Va bene Dai 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 Ok Sto maledetto Coso Accendi Ok cosa cavolo è successo Un attimo qua Devo tenere la maschera Credo Ma di nuovo Ok Eh qua ci hanno fatto sprecare energia Però eh Devi guardarmi Scrap Baby eh Mi raccomando Se si muove Tutti me lo dovete dire Mi sa che c'è Trash and Gang Ok non è Non è Vedi non sempre va Dipende probabilmente Da In che modo è Ma che cacchio di musica fai Ma sei un maiale Questo è il maiale Sì l'avevo capito In realtà non mi sembrava Mi sembrava più un altro ipopone Ah un maiale Un maiale Questa qua io la sento amara Se mai è avvelenato Lo sanno tutti eh Eh vabbè Metto la batteria Porca cutrettola Porca cutrettola Ok Dobbiamo Ce la possiamo fare Totalmente Però Un po' per sfortuna Un po' per Magari lo scoraggiamento Del momento Ok Afton Bloccato Accendo Spegni Grazie Agnias Ok Se non arriva Scrap Baby Da subito Siamo anche fortunati Afton è venuto Ok Dai Dai Cicchia Cicchia Cicchitas Ok 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 Eschica Ciccala Cicchita Oh yeah Spegni Ok ho spento Spento Ok Non male Ce la stiamo Stiamo cavando Buonino Non buonissimo Ancora ma Può fare di meglio Phantom Freddy Pure rompe le scatole Comunque Ok Devi avere una velocità Poi col mouse Corre a destra A sinistra Accendi Aspettiamo qualche istante Spegni Ok Buono 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 Ottimamente Gestita Ok Chi è Bonnito Ok Energia Non troppo alta Ma Accontentiamo Ok Attene tu Accendo Accendo anche qui Facciamolo allontanare Un attimino Vieni Ok Stiamo Stiamo Ok ok A posto A posto Bene 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 Buenitos Ok Dai Vai via Cicchita Bene Ok Accendo Accendo Aspettiamo qualche istante Pegni Lo sapevo Mi è apparsa lei Che lei non appare quasi mai Lui Bonio Bonio brutto Non me l'aspettavo Non me l'aspettavo Mi ha fregato Mi ha fregato Sono rimasto male Troppa Lo fanno Ti vengono tutti adosso È difficile per quello Preso power up Che iniziamo a 50 gradi Invece che 60 Magari Che ne sai Ma ora posso tornare indietro Fino a 50 No Ok Sarebbe stato troppo Tu Anna credi in me? Certo E voi ragazzi? Tutti insieme? Accendo Ok Bene 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 Dai Una volta che non metto il cappello Chissà che cavolo Mi ha tirato dentro adesso Mi ha tirato dentro Suo zio Did zio E il bello è che Accendo Non è neanche l'ultimo filmato Ok è brutto? Ok è brutto Non lo so Non lo so È tutto buio Finirà? Cosa devo fare? Non lo so Metto la maschera? Chi è? Ma dai ho premuto Ho premuto È Afton È Afton Sei sentito il rumore Nel cancello Che cacchio mi jumps Che Oh mi stanno facendo venire il male Anna Difficilissimo Di direpel Non ne abbiamo neanche tanti Ne ho uno Quindi non lo posso sprecare Proviamo ancora Oh ci siamo arrivati così vicini Due volte Questa è sfiga Io tengo la temperatura Sotto i 60 adesso Ah non posso Ok Eh le hanno pensate Proprio tutte Per fregarmi Ma io posso Con i miei leoni E Anna Banana Ah tranquilla Ok Oh Eh Te ne vai Bonnio Mi piace a nessuno Sai Ancora No che cica questa Ok Bene Dai dai Forza Forza Ok Accendo Un attimino Avevo messa Cosa Ah Non ce la faccio più Sto reggiando a ruota Sto reggiando a ruota Ma poi Cioè E quello che mi Ci provo un'ultima volta Un'ultima volta E poi basta E quello che mi dà fastidio E che Ci arriviamo sempre vicini Così Metto il tutto Metto tutto 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 Questa è la volta in cui Mi impegno di più di tutto Se non ci riesco adesso Per oggi non ci riesco Che non vuol dire mai più ma Fino alla prossima Ok Concentrato eh Tutti concentrati Con le mani al cielo Tipo energia sferica Buona Tu dai tuo aiuto Col riscaldamento Eh Ok Ok Accendo Tranquilla Ok Bene 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 Stiamo respingendo alcuni di essi Bene Ok Spegniamo qui Cerchiamo di economizzare Tutto il power Di cui possiamo Accendo Io chiudo anche Non ho idea Non ho idea Metto la maschera Grazie Che cacchio è quello là Boh Spegniamo tutto Power Ne abbiamo poco eh Eh vabbè Venite tutti Allora Secondo me Abbiamo sbagliato Qualcosina Però non siamo messi Malissimo eh Te li do i soldi Te li do Tiè Hai a quel paese Ladro Solo perché Ti approfitti Che sono in difficoltà Mi sudano le mani Ecco perché Si approfitta Ok Afton è arrivato Stavolta Si è arrivato All'inizio Sta attaccando Come uno Sbanunato Ok Aspetta Dov'è Non trovavo Dov'era C'era il tasto Della telefonata Non l'ho trovato È brutto È brutto perché Fa rumore Potrebbe attirare Gentaglia Eh ma ci hanno attaccato Tantissimo Anche qui eh Oh Boh Toh guarda Per favore Accendi Eh accendo Tutti Tutti Sono arrivati Tutti Eh sta arrivando Anche music man Per il rumore Della telefonata Niente niente Eh il rumore Della telefonata Ci jumpscare A music man Ci jumpscare A music man Ma io ci riprovo Perché questa non M'ha soddisfatto Questa non era giusta Toh Cos'è tutto sto panico Dai è finito il rumore Per favore Vai via Eh lefty anche Anche lefty È sensibile al rumore Eravamo arrivati Alle 4 Probabilmente Quasi anche le 5 Abbiamo un altro Di repel però Riproviamo È un segno del destino Questo di di repel Ci permette di andare Di nuovo Con tutti i power up C'era stato aggiunto Qualcuno o no Perché avevamo Il di di repel Ok Ce la posso fare? Ce la posso fare? Nice Ok Io inizio ad essere Meno confidente In me stesso Però Però ce la posso fare L'energia sferica Piano 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 di nuovo Vai via Ok Muta Se non fosse stato Per quella chiamata Forse ce la facevamo Non avevo visto Dov'era il cavolo Di pulsante Se tu lo vedi Quando io non lo vedo Dimmelo Anche se di solito Lo vedo Però Sì sì tranquilla Spegni Ah tranquilla Tranquilla Va bene Tranquilla 115 Senti Io avevo spento Troppa roba da premere Non hai idea Di cosa c'è arrivato Lì eh Zitta però Porca miseria Tu non me lo dici Abbiamo sprecato Anche un sacco Di energia Ora eh Eh Che hai i tuoi soldi E vai via tu No vabbè Ma guarda Cioè stanno diventando Peggio E' peggio di prima C'è tutta sta gente Da dove cacchio escono Per favore Ok Vi prego Cioè cos'è A volte sono aggressivi Come la malasorte Accendi Eh accendi Ho acceso Vento Accendiamo anche qui Sì ma va bene Però eh Attaccatemi un po' di più Ma almeno spero Che saranno meno aggressivi Verso la fine Visto che ora erano Così aggressivi Non sembra proprio Cioè E' troppo così Tutti Datevi una calmata Ho acceso Va bene Ma Sono troppi Cos'è A volte sono meno Di così E già in quel caso È difficile Ok Accendo No Non ce la faccio Non ce la faccio Per questa volta Non ce la faccio Ho dato del mio meglio Ce la devo fare In una di quelle due volte In cui abbiamo raggiunto Le cinque Quasi le sei del mattino Niente Non ce la faccio Proprio che non ce la faccio Per questa volta Io direi che Possiamo concludere qua Magari faremo Un altro episodio Dove giochiamo ancora Con Anna Magari faremo Un episodio Un video Dove registro Finché non riesco A ottenere Questo maledetto Filmato segreto Non lo so Scrivetemi voi Cosa preferite fare Se continuare a provare Insieme in live O se devo provare Da solo Finché non ci riesco E per questa volta È tutto Mi dispiace Non esserci arrivato Però Vabbè È veramente difficile Lion E Anna Ciao Out Puta Puta Grazie.